Con la vittoria della Victoria Libertas, il weekend delle squadre pesaresi impegnate nelle diverse discipline è risultato meno amaro. L'unica gioiera è infatti la squadra di Repesia, che nel posticipo di domenica sul parquet di Brindisi si è imposta per 102-74. Un'ottima prestazione di squadra condita dai 24 punti di Abdurrahman a regalare il quinto posto in classifica con 8 punti in 7 giornate. Dai biancorossi del basket ai biancorossi del calcio, con la vis che torna a gonfiare la rete dopo 621 minuti a digiuno, ma che non è comunque bastata per portare a casa i tre punti. 1-1 il punteggio finale al Benelli contro una fermana che non vinceva da nove partite e ferma il terz'ultimo posto con 11 punti. Alla quinta rete stagionale di Fedato, siglata al minuto 54, hanno risposto gli ospiti al novantesimo con Bunino, che di fatto ferma i biancorossi in casa che salgono a 15 punti in classifica, confermandosi il peggior attacco del torneo. Nel campionato di Serie D è arrivata sul campo del Senigallia la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate per l'Alma Juventus-Fano, che subisce un netto 3-0 dai padroni di casa grazie alle reti di Mancini, Pesaresi e Cariota. Granata che, con 19 punti e pur sempre ancora in zona play-off, vede ridursi il gap delle inseguitrici. Nel calcio a 5, Little Service non riesce a replicare l'ottima prestazione della partita precedente, perdendo 3-4 al palafiera contro la penultima Aniene. Illusorio è il doppio vantaggio iniziale dei ragazzi di Mister Colini, che si sono visti poi rimontare dalla tripletta in nove minuti di Salla. Otto punti su otto partite e il magro bottino ottenuto sin qui dai biancorossi, a più uno dalla zona retrocessione. Primo a dispiacere casalingo per la Fiorini Rugby-Pesaro, sconfitta nel finale dalla Cavalieri Union Rugby per 20-22. Nella pallavolo, zero punti per la Megabox Vallefoglia dalla trasferta di Bergamo, uscita dal campo con il punteggio di 3-1 a favore dei locali, che bloccano le Tigri a otto punti in classifica, meno tre dai play-off. Grazie.